Grande interesse ha suscitato la preparazione e l'evento che il prossimo 9 aprile vedrà protagonisti per lo Shardana Challenge e i Mud Runners. Siamo andati a curiosare sul campo allenamento e abbiamo sentito Domenico Elia, presidente della Mudder Inside. Cosa ci vuole per diventare un Mud Runner? La passione, il divertimento, tanto, tanto agonismo anche. La prima cosa è la sfida con se stessi, è quello che spinge molte persone a voler partecipare a questo tipo di attività. E poi anche il divertimento, perché come abbiamo detto non ci sono limiti di età, è una gara aperta a tutti. Tant'è che in occasione dello Shardana Challenge abbiamo deciso di organizzare una Open Race aperta a tutti e una Shardana Kids per i più piccoli dai 6 ai 12 anni. Quanti atleti frequentano i vostri corsi? Questo è lo Spartan Camp My Gymnica dove ci alleniamo, è stato sede e sarà sede di workshop specifici sulle madrane e sulle OCR. Gli appassionati sono tanti, abbiamo già diversi atleti che partecipano a gare importanti e che parteciperanno anche allo Shardana Challenge. I numeri sono in continuo aumento, non solo in Sardegna ma anche in Italia e nel resto del mondo. Dove ci si può rivolgere per iniziare a conoscere questa disciplina? L'appuntamento qui allo Spartan Camp My Gymnica è lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, il martedì e giovedì dalle 14 alle 15.00. Grazie. Grazie.